ciao a tutti ragazzi oggi siamo come potete vedere all'opera house l'opera house è stata progettata dall'architetto danese jorn utzon ed è stata costruita tra il 1959 ed il 1973 la struttura ricorda una serie di vele sulla baia e bensì adatta ad una città ventosa e legata al mare come sydney l'opera house è stata anche dichiarata patrimonio dell'umanità dall'unesco il complesso è formato da cinque sale dove vanno in scena balletti concerti opere e rappresentazioni teatrali la più spettacolare è la concert hall è possibile partecipare a una visita guidata il biglietto intero costa 37 dollari ovvero 25 euro questa visita della durata di circa un'ora è disponibile in varie lingue tra cui però non c'è l'italiano che è stata un'ora più ampio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.